Grazie a tutti per la vostra presenza, ringrazio ancora il Ministero dell'Istruzione, il Ministro Azzolina per questa decisione, questa possibilità, io sono il super consulente della nuova facoltà scusate di lipiologia, al momento è abbastanza critico, quindi ho preparato un breve discorso che vi leggerò per illustrarvi appunto il mio ruolo e quali sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere il governo per arraginare questo dramma che ci sta letteralmente consumando come società civile. Ebbene in questi ultimi mesi si è resa evidente la necessità di istituire un percorso riparatore per quanto concerne le estreme difficoltà di gioco evidenziate dal titolo prodotto della campagna di sviluppo CD Project. Abbiamo fatto esperienza tutti, direttamente o indirettamente, dei drammatici eventi delle ultime settimane con l'impennata di suicidi, omicidi e rappresaglie registrata dai nostri istituti statistici, dovute evidentemente alla insostenibile difficoltà nell'utilizzo del DEC Lippi Seris. Da qua nasce la presa a disposizione del governo, presente oggi più che mai per inizialmente arraginare ed auspicabilmente risolvere con forza questo dramma che affligge la nostra società. La decisione, estremamente coraggiosa da parte del governo e conseguentemente del Ministero dell'Istruzione, di fondare una facoltà di Lippiologia, si inserisce in modo strategico in questo quadro situazionale. Ringrazio quindi nuovamente il governo ed in particolar modo il Ministro Azzolina per aver creduto in quest'idea. In quanto consulente straordinario del Ministro, mi occuperò in prima persona dello sviluppo di questa nuova facoltà che avrà un ruolo primario ed essenziale nella risoluzione della situazione. Ai giocatori e dalle famiglie coinvolte va il mio più sincero supporto emotivo. Capiamo perfettamente quanto si sia dimostrato difficile scegliere se molligare all'interno del mazzo al primo round Rutilia o Brachetto. Decisioni che hanno portato a dilemmi esistenziali senza precedenti. Siamo perfettamente consapevoli dei giorni vissuti in tribolazione fisica e mentale per la conseguente perdita di una partita dovuta ad un calcolo sbagliato dei punti espressi da series e ping di danno relativo sulla Sheen Maiden. Ebbene con questa nuova facoltà siamo sicuri di poter mettere le persone nella condizione di poter prendere la decisione giusta al momento giusto. Mi sento in dovere quindi di applaudire questo governo che prima di altri a livello internazionale ha preso questa coraggiosa decisione mentre nel resto del mondo ancora della persona continuano a soffrire e morire per questa piaga. Il governo c'è oggi più che mai e lo Stato italiano è qua per aiutarvi. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione dei kit di studio da parte del mio staff in concomitanza con l'inizio del percorso formativo in lippiologia da parte del corpo docente. Grazie alle ingenti somme erogate dal Ministero potremmo iniziare celermente a mettere in piedi la struttura formativa. Ringrazio tutti quindi per l'attenzione. Ringrazio nuovamente dal profondo del cuore il Ministro Azzolina per la fiducia accordatemi. Sono sicuro che potremo sconfiggere questa piaga uniti impiegando il tempo necessario. Non lasceremo nessuna possibilità insondata. Ringrazio ancora per l'attenzione, ringrazio nuovamente il Ministro. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo con l'evoluzione della costituzione della nuova facoltà e vi aggiorneremo con i dati relativi alla repressione di questa piaga. Vi ringrazio ancora. Non ho altro da aggiungere e adesso corriamo subito al lavoro per risolvere il problema. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti